0 15 dai su concentrato l'ora dai vai che a sbagliare 15 pari forza che qualcosa non c'è anche però devi essere tosto e dai che motiva e doveva fare meglio questa risposta buona 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 ecco no 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 continua lo scambio l'avevi spostato si poteva continuare a muovere il suo avversario sempre più in difficoltà 15 30 basta i stupidaggini dai su troppo goloso a volte dai so che lo sai che è sbagliato di brutto quindi reagisci di potenza vai grande 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 bravo bravo bellissimo rovescio bello 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 rovescio incrociato stretto stretto e fulminato meraviglioso bravo 30 pari dai dai che stai a due punte del match dai era prima perché perché cosa è successo la potevi fare di tutto potevi fare un buco in terra gliel'hai messa sul provescio da fulminato incredibile la capoccia però dai su musetti la capoccia dai foglia totale contro brecchia foglia totale servizio da sotto vantaggio dell'avversario t'ha fulminato e ti devi andare a giocare al tie break veramente incredibile no 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 una stupidaggine enorme fai break quindi che puoi fare